un'altra parte importante è la ginnastica sia corpo libero sia con l'utilizzo di attrezzi vari qui possiamo vedere Silvio, il nostro coach che fa degli strict pull up, delle trazioni al corpo libero che noi possiamo utilizzare cercando di migliorare la forza della parte superiore del corpo viene a nostro aiuto il keeping che è sempre un movimento di ginnastica in questo momento lui sta cercando di massimizzare anche la velocità oltre alla forza e grazie al keeping possiamo cercare di fare esercizi ancora più complessi della ginnastica come un toast to bar oppure anche un muscle up che è la versione più difficile tra gli esercizi dei ginnastica allora siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17